6 febbraio 2023, siamo quasi arrivati a Bormio, siamo arrivati a Bormio e iniziamo quindi dal fallimento della GoPro Hero 11, perché in realtà prima di questa clip ci doveva essere quella con il tratto A3 e A4 della pista Stelvio, ovvero il mitico muro di San Pietro. Comunque, non pensiamo alla clip mancante e andiamo a vedere quello che c'è. In questo terzo video della prima giornata a Bormio andiamo a vedere le piste B2, B2, B3, S3, A1 e A4 che ancora non abbiamo visto. Riprese con GoPro Hero 11 in 4K, 60 fps Hyperview. Prendiamo la cabinovia che da Bormio ci porterà a Bormio 2000, e voilà, come per magia siamo già arrivati. Si balla, dopo che si è ballato ci si può alzare, che ne apre le porte, eccolo qua, e si va. E siamo arrivati a Bormio 2000. Andiamo a prendere la seggiovia che da Bormio 2000 ci porterà a Cimino. C'è la garetta. Mamma mia, come scendevano dall'Astelvio quelli che si allenavano a fare le porte. Certo che il vento gli ha tirato via la nera da alcuni punti, eh. Siamo arrivati a Cimino 2636 metri. E se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete condividete sui social i video che preferite. Se volete potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Instagram dove trovate foto e reel e perché no anche su Twitter. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Grazie. 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 Pista Bidu Estella Alpina Rossa Grazie. Grazie. Pista D2 Raimond Rossa Grazie. 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 Grazie Sista D3 Primark Rosso Grazie Andiamo a andare tutti Tratto S3 di collegamento Grazie Siamo arrivati alla A1 Stelvio Pista rossa Che purtroppo non vedremo Per malfunzionamenti della GoPro Et voilà Come per magia ci ritroviamo Sul tratto A4 della Stelvio L'ultimo pezzo prima di volto E siamo a lì Sì Sì Grazie a tutti E siamo tornati a Bormio alla cabinovia Bormio, Bormio 2000 che ci riporterà in cima Questo video è finito, metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati Guarda altri video, ce ne sono di vari generi I video di questa giornata continuano Ciao, alla prossima!